sono ai 40 all'ora al massimo per il momento c'è l'orologio che spinge Pella Pella è partito il film, vuoi salutare? voglio che la sei messa il contrario Italia 1 Italia 1 vai io ti seguo noi andiamo vai Pella io ti seguo se non vai troppo forte ti seguo non vai troppo forte non vai solo così allora stengo